Adesso abbiamo presentato ai commercianti una nuova iniziativa che unisce turismo e commercio. Abbiamo presentato un nuovo brand della città, quello che è dentro di spalle, che rappresenta tutte le popularità della Diovenia, la vaga alla montagna, la cultura, la creatività, il design e il centro della città con le attività commerciali. Insieme a questo abbiamo presentato una serie di iniziative che andranno a coinvolgere il commercio, a coinvolgere i turisti, puntando sul turismo vicinato, il turismo che abbiamo conosciuto nel 2020, che speriamo possa diventare un riferimento sempre più importante per la Diovenia e che possa venire la Diovenia non solo per vedere il paesaggio, ma anche per puntare le attività commerciali della città. Iniziative sono diverse, presenteremo poi in dettaglio nei prossimi mesi, vanno dalla creazione di un itinerario tra i negozi della città al tema genero d'aria, per prendere come spunto il ricentenario con tutte le iniziative che l'hanno scoperto per un lato a causa del Covid. Ci saranno iniziative a premi per chi acquista i negozi di Diovenia, sia rivolte al turisti, quindi magari che vengono qua in giornate e quindi fettano un certo numero di queste giornate, sia rivolte di Dioveniesi che fettano un numero di banque, gli altri diapisti, nelle varie categorie di negozi della città, alla fine dei quali saranno per entrambi dei premi, ovviamente di diverso tipo, che poi serviranno anche a promuovere a sua volta il commercio e la città stessa. Insomma, tante iniziative, speriamo di coinvolgere i commercianti, e ci aspettiamo che tutti i commercianti della città che riceveranno nei prossimi giorni la presentazione di Diovenia di quello che abbiamo visto stasera, possano poi partecipare uniti e si può tutti insieme davvero lavorare bene bene nel sviluppo cittadino e del vero e mediano e del giocommercio.